colpito corazzato nemico danneggiato centrato li abbiamo danneggiati l'abbiamo preso preso c'è entrata c'è entrata mi sposto per aiutarti corazzato nemico danneggiato bel colpo corazzato nemico distrutto l'abbiamo preso li abbiamo danneggiati l'abbiamo preso l'abbiamo preso bel colpo corazzato nemico danneggiato dal colpo non 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 dai colpo centrato Centrato Pronti al fuoco Da il colpo Versaglio perso Preso Preso